15 secondi liberate l'area dell'esplosione mancano 10 secondi rimangono 5 secondi tornate a occuparvi del contenitore dopo avermi trasferito la piazza prendete la stanza e proteggevi il contenitore la squadra d'attacco ha eliminato i difensori nuovo caricatore occhio all'esplosione un solo difensore rimasto la squadra d'attacco ha eliminato i difensori non la squadra è la squadra Ah L'ultimo nemico rimasto Un operatore alleato I difensori hanno eliminato tutti i nemici Piazzolo TS Si rimane in portazione Si aprirà Ti hanno scoperto Torna indietro Squadra d'attacco eliminata Missione completata Allora Johnny dice Ma ho preso la regola Porca vacca Me lo vuoi dire? Ma dove cacchio Stiamo giocando Guarda di qua Dove sta sto Twitch? Oh Ah Questi entrano Dove 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 dimmi Eh vabbè Io devo un attimo fare qua Ok Retro the power Alessa forse fa... Bravo Rimasto blitz Vieni Oh 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 Batti Ma Roma si per ti... Shhh aspetta ma però Guarda guarda Shhh Staccò L'ho visto Dica sta cappola No No ma è individuato Puttana maiala 10 punti Ottimo Grazie a me vai giù Bello 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 Ricarico Ultimo attaccante rimasto in vita No ma è Bello No ma è Il operatore alleato è rimasto. 15 secondi. Mancano 10 secondi. I difensori hanno eliminato tutti i nemici. Contenitore di biorischio individuato. Raggiungendo. Nuovo caricatore. MP in uscita. Facciamo fischiare qualche orecchio. Ho attivato il drone. Guardate il contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia. Guardate il contenitore di biorischio. Sono a secco. Attività in uscita. La squadra d'attacco ha eliminato i difensori. La squadra d'attacco ha eliminato i difensori di biorischio 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 di biorisch